Salve a tutti ragazzi, allora, Milan batte Spezia 2 a 1, partita meritata da parte del Milan, veramente, partita del Milan meritata, solo che non so più come livelo, ma la vogliamo smettere di soffrire in questo modo, modo, modio, senti me, modo, cioè vogliamo smettere di soffrire così, siamo in Milan, porca puttana, dopo l'1 a 0, devi fare subito il 2 a 0, e tu che fai? Ti fai fare gol da Daniel Maldini, cioè, io da mia lista, allora, non me ne vogliano gli altri tifosi rossoneri, veramente, guardate, mi sono incazzato in un modo incredibile, ho insultato, io sono sincero, non sono un bugiardo, chiedo scusa, dal profondo del cuore, chiedo scusa alla curva sud rossonera, chiedo scusa alla curva sud Milano, veramente, io vi chiedo scusa, perché a fine partita, cioè, non a fine partita, quando Maldini è uscito gli avete fatto l'applauso, io da milianista non gli farei l'applauso, perché abbiamo comunque ci ha fatto pareggiare, per poco non la pareggevamo e conquistavamo solo un punto, cioè, ragazzi, non si può applaudire un avversario, Maldini, ok, Maldini, parliamoci chiaro, Daniel, a parte quello Spezia, che non è mai, è un giocatore comunque ottimo, ma che ha fatto per meritarsi gli applausi? Non ha fatto nulla, una volta ha segnato lo Spezia, una volta ha segnato contro di noi, non ha fatto nulla per avere i nostri applausi, Daniel, Paolo tanto di cappello, ma Paolo non sarà, Daniel non sarà mai come Paolo, cinque coppe dei campioni, o come Cesare, ne ha vinte due, cioè, non saranno mai, la linea assieme a Maldini non sarà mai come quello, ormai è finita con Paolo, Comunque, padre e figlio che alzano la coppa dei campioni? Con Daniel no di certo, comunque lasciamo stare, Milan batte Spezia 2 a 1, il Milan che comunque ha un pregio, siamo dei leoni, a differenza del Napoli, noi non molliamo mai, il Milan non molla mai, i napoletani dopo il gol dell'1 a 0 del Liverpool hanno mollato, dopo il nostro pareggio, sì, hanno fatto il 2 a 1, ma hanno fatto solo quello, poi dopo non hanno insistito per fare il 3 a 1, il Milan li ha mesi sotto Torchio in tutti i sensi, cioè, sono stati fortunati che noi abbiamo fatto il gol del 2 a 2, e poi il gol del 3 a 2, Comunque, tornate a noi, sinceramente, perché i nostri errori ci sono nel percorso, il Napoli è immediatamente primo in classifica, parlamoci chiaro, però, non si può dire che il Milan, come dire, non possa fare più di tanto, perché può, il Milan può e deve fare più di tanto, Il problema nostro è che siamo così cocciuti, che non riusciamo, porca puttana, a fare una minchia di partita tranquilla, cioè, siamo fatti così, dobbiamo soffrire, punto, non ci sono alternative. Ma che minchia, però, ma come fate ad essere, io sono contento per aver vinto, ma come cazzo fate, dico io, ad essere, come dire, cioè, a fare quelle interviste tutti contenti, ma contenti di cosa? Che siamo secondi, che siamo secondi in classifica, contenti di tanto, vabbè, comunque, contenti di cosa? Che siamo secondi e non riusciamo manco ad agguantare il Napoli, che è primo. Quest'anno il Milan rischia di perdere lo scudo. Mia madre, tipo, che è tifosa del Napoli, mi ha detto, io l'anno scorso, quando ho vinto il Milan, non ho detto niente, tu adesso perché protesti così tanto? Perché io si vede che il Milan non merita di essere secondo e meriterebbe di più. Però quest'anno, come ha detto papà, che invece, vabbè, lui è dell'Inter, però una cosa buona l'ha detta. Secondo me ha pure ragione, quest'anno è l'anno del Napoli, secondo me. È un peccato perché il Milan veramente poteva vincerlo quest'anno, lo scudetto. Poteva veramente rivincerlo e poi, insomma, arrivare alla seconda. Qua sarà una per un bel po' di tempo, secondo me, perché dopo aver vinto questo, il Napoli, secondo me, aprirà un ciclo. Secondo me vincono quest'anno e poi vinceranno per altri tre anni di seguito. Non vincevano lì più, secondo me. Comunque è una vera palla, vedere veramente uno... Cioè, facciamo vincere, il Napoli vince dopo trent'anni lo scudetto in questo modo. Cioè, non ci posso credere. Cioè, non ci posso proprio credere, veramente. Cioè, il Milan poteva vincere la seconda a stelle, invece, comunque, vabbè, dai, ragazzi, ma non siamo più qua a fare le prediche. Allora, partiamo con le pagelle, dai. Allora, livo sempre stanco ai video, però... Allora, Tatarusanu, voto cinque e mezzo. Non mi sei piaciuto su parecchie cose, però hai fatto il tuo dovere, Tata. Non imbattuto, ma perché purtroppo l'è colpa di Krunic, che si è fatto sfuggire Daniel, però di lui parleremo dopo. Daniel, eh, volevo dire... Calulu, voto sei più. Dai, Piero, hai fatto bene oggi. Non è un benissimo rispetto alle altre volte, però comunque è bene. Tomori e Gabbia, sei e mezzo, sei e mezzo. La colpa del gol non è certo vostra. Teo Hernandez, sei e... no, sette per il gol. Grandissimo Teuccio. Poi, Benazer, otto Ismael. È fantastico Ismael Benazer. Per l'ammunizione ha fatto bene Pioli, che lo ha sostituito. Perché non è possibile, veramente, che Daniel veramente si faccia ammonire, cioè si faccia espellere... Cioè, espelli che sentiamo in Daniel. Ma che sto dicendo? Volevo dire, non è possibile che Ismael, dopo questa prestazione, si è fatta ammonire. Ti avrei dato otto e mezzo, ma ti do otto perché veramente ti devo togliere mezzo punto per questo giallo. Pensa, Giroud non si prende la sufficienza per aver preso un giallo. Nonostante il gol fatto. Però, ci arriveremo dopo. Krunic, cinque e mezzo. Se non avessi fatto quella cazzata del gol di Daniel, ti avrei dato sei. Ti avrei dato veramente sei, caro Krunic, caro comrade. Io lo chiamo, lui si chiama Rade, ma io lo chiamo comrade. Cioè, io non posso crederci, Krunic, Rade. Cioè, comrade, non ci posso credere. Come te lo sei perso in quel parri in pallo. Io non lo so veramente. Comunque, basta darti colpe. Messias, sei meno. Qualcosa l'hai fatta, Junior. Leao, sei. Giusto perché sei stato un po' in campo a primo tempo, ma nel secondo non hai fatto nulla. Quanto hai sprecato. Solo il passaggio che hai fatto a Divock, ma no, poteva essere d'oro, ma Divock stasera cinque ha dormito Divock. Origi, tocca a te con la Cremonese, vedi di segnare, porca troia. Comunque, Rebic, sei, ci mette l'anima. Tonali, sei e mezzo, barra sei, sette, diciamo perché comunque, anche se il gol te l'hanno annullato, hai fatto benissimo, hai fatto tu il cross per Giroud. Quindi, grande Sandro. Comunque. Tonali, così, poi, ben, ah, non da porco due. I atti cambi, allora, ti ho senza voto. Rebic ce l'ho detto. Oh, e meno male che doveva giocare Vranx, trequartista. Vranx non ha visto il campo. Che bugie che dicono i giornalisti. Come quella, ragazzi, piccola parentesi. Come quella cavolata che Leao ha cambiato da gente. Non è vero, è George Mendes, la gente. Quello che ha incontrato il Milan è un avvocato di Leao per la multa che ha preso. Non di certo per il suo rinnovo. Leao, ve lo dico, ragazzi. Non lo so se rinnoverà o no, perché lui vorrebbe rinnovare Rafa. Il Rafa il vorrebbe rinnovare. Il problema è che, purtroppo, non è colpa sua. Perché lo Sporting Dispone ha chiede 10 milioni a lui. Cioè, non può pagarli così se al Milan rinnova a 4,5. Non si pignorerà lo stipendio per quanti anni. Quindi, no, ragazzi miei. Non è possibile. A meno che il Milan non paghi la sua multa e la smetta di dire. Però non è affare nostro. Paga la multa e fai restare Leao al Milan. Porca troia. Non rompere il cazzo, cardinale. Bene. Perché te lo puoi permettere con i ricavi. Paghi sta multa a Leao. E il Milan si tiene il suo rinnovo. Punto. E rinnova ben a Ser. Il Milan si deve tenere i migliori. Dobbiamo vincere, vincere, vincere trofei, coppe, aprire cicli rossoneri, vittorie rossonere. Vogliamo tornare a brillare come all'epoca di Berlusconi. Il Milan deve vincere. Deve vincere il Milan. Vincere trofei, coppe. Qua lo scudo lo dobbiamo ritenere per molti anni. Essere campioni d'Europa un giorno. Il Milan deve vincere. Tieteli i migliori. Pagali. Porco due. Lasciamo stare.